Ciao a tutti, lascia chi in amore ti fa soffrire. Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale e seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasso. Allora, spesso succede che noi continuiamo a rimanere con persone che ci fanno soffrire, a mantenere relazioni, una storia sentimentale, seppur forse sentimentale non si può neanche chiamare, con persone che in amore ci generano sofferenza, che ci fanno stare male. Ora, perché capita questo, perché facciamo questo? Beh, i motivi sono i vincoli, le paure che noi abbiamo, la paura di rimanere da soli, della solitudine, la paura di non poter trovare un'altra persona. Ma non soltanto questo, sono anche i sensi di colpa, magari far soffrire, che ne so, la mamma, il papà, gli amici, oppure un senso di colpa rivolto da se stessi verso se stessi, ad esempio il credere che poi dopo ci lamenteremo perché non troveremo più la persona giusta. Insomma, sono tutta una serie di fattori. Anche il considerarsi non in modo, come dire, non adeguato, cioè non considerarsi in grado di poter facilmente trovare un'altra persona. Questo sottende alla disistima in noi stessi. Ecco, queste sono tutte motivazioni, a cui se ne possono aggiungere infinite altre. Timore del giudizio, appunto, negativo degli altri, di parenti, amici, eccetera. Tantissimi motivi. Le abitudini, motivi logico-razionali, le abitudini che si sono costruite. Insomma, tutta una serie di motivazioni nefaste, negative, spesso motivazioni che non hanno nessun senso di esistere, che però ci tengono bloccati, ci tengono vincolati in situazioni di sofferenza. Quindi stiamo con delle persone che magari non ci rispettano, non ci stimano, magari ci tradiscono. Magari non amiamo più poi di fatto, anche semplicemente questo. Non proviamo più un'attrazione, non proviamo più amore. E questo fa sì che restiamo costretti, siamo costretti in questo modo a non viverci bene una storia d'amore. E soprattutto dobbiamo renderci conto di un fattore fondamentale, che andiamo a perdere qualcosa, la cosa più preziosa che noi abbiamo nella nostra vita, che è il nostro tempo. Il nostro tempo dobbiamo utilizzarlo al meglio, perché è limitato, molto limitato. Ogni giorno perso, perso nel senso di passato con una persona che ci genera di fatto sofferenza, è un giorno che non recupereremo mai più, mai più. E quindi dobbiamo trovare la forza di lasciarla, anzi, o lasciarlo. Anzi, dobbiamo tenere presente questo, che il massimo segno di maturità che un essere umano può avere è quello di allontanarsi, di lasciare ciò che è negativo e provoca sofferenza. E invece promuovere, accogliere, considerare tutto ciò che ci dà piacere, che ci fa stare bene, che ci dà quiete mentale. Ecco, quindi che questo dipende da noi, perché le persone poi spesso si lamentano, si lamentano del marito, si lamentano della moglie e non le lasciano. Talvolta le ragioni sono ragione di stato. Noi diciamo, ma non posso lasciarla, perché i figli iniziano prima, i figli sono piccoli. Sono troppo piccoli per lasciarli, perché ci... No, non posso lasciarli, i figli sono troppo piccoli. Poi, questi figli, beh, adesso devono finire almeno le elementari, perché possa lasciarli, perché possa lasciarli questa persona. Almeno, insomma, sono un po' più grandi cele. Finiti le elementari? No, beh, ma meglio le medie, perché è un periodo, questo qua, che è un periodo critico. E poi no, ma adesso inizia l'adolescenza, meglio che finisca le superiori. E poi, beh, adesso però, periodo, finito le superiori, dovrà ben cercarsi lavoro, fare l'università, insomma, qualcosa, questo e quell'altro. E poi avrà trovato lavoro, ma adesso è all'inizio, appena ha trovato lavoro, può dare uno sciocco così. Poi il figlio avrà a sua volta dei figli, allora dirà, beh, ma adesso i nipoti sono piccoli, e quindi ricomincerà l'altra fila. E tu continuerai a stare con la stessa persona, sempre nella sofferenza. Oppure in una relazione piatta, in cui non c'è vitalità, in cui non c'è nulla di buono, nulla di positivo. Una relazione che non ti dà più pathos, che non ti dà più tensione, che non ti dà più emozione. E che senso ha restare in una relazione che non ti dà pathos, che non ti dà tensione positiva, che non ti dà emozione? Non ha nessun senso. Il senso, l'unico senso che ha, è quello di disperdere energie, perdere veramente tempo. E allora bisogna fare un atto di coraggio. Quando ti rendi conto che sei in questa situazione, l'unica cosa che ti può salvare è un atto di coraggio. Cioè fare qualcosa, fare un gesto, chiudere la relazione, indipendentemente da tutto. Anche se hai sensi di colpa, anche se pensi questo, non devi stare a rimuginare. Quando ti sei reso conto che la relazione non va, figli, non figli, mutuo, non mutuo, qualunque situazione, tu stia vivendo, un atto di coraggio, la chiusura di quella relazione ti porterà infiniti benefici successivamente. Ti porterà davvero infiniti benefici. E la possibilità poi di riprendere un cammino, riprendere un percorso positivo. Magari con una persona che veramente possa essere considerata la persona giusta per te. Una persona che ti possa dare veramente quello di cui hai bisogno, con cui tu possa essere in sintonia ed essere felice. Perché la felicità è una scelta. Non è un qualcosa che noi non possiamo mai scegliere. In buona parte, perlomeno, la felicità è una scelta. Quindi scegli di essere felice. Questo è importantissimo. Bene, per questo video è tutto. Seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco. Iscriviti al canale ed iscriviti al mio nuovo canale appunto Felicità e Benessere. Ciao a tutti.